Beh, il momento è arrivato ed è proprio ora di andare a parlare di nuovo della spicola, ma in questo preciso momento non andremo a parlare di approcci generali, ma entrerò in un argomento ben specifico, ovvero andare ad insidiare la spicola in spiaggia. Benvenuti ragazzi a questo nuovo video dove andremo insieme a capire dove potete andare a trovare e insidiare la spicola in spiaggia, quali sono i potenziali hotspot da tenere in considerazione e quali sono i punti da evitare e soprattutto andarlo a vedere anche con occhi. Ebbene sì, perché ho creato delle immagini e cercherò in una seconda parte del video di andarvi, di portarvi proprio in spiaggia e farvi vedere dal vivo quello che vi illustrerò. Prima di andare avanti voglio chiedervi un piccolo contributo, un contributo gratuito, quello semplicissimo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ed accendere la campanella delle notifiche, così che da ricevere ogni volta aggiornamenti sui nuovi video. Questo proprio per andare a supportare il canale stesso e supportare me, per farvi capire che questi tipi di video vi interessano, che questi tipi di video vi sono stati istruttivi e che questi tipi di video vi hanno aiutato a magari a realizzare le vostre prime catture, a prendere le vostre prime spigole o incrementare il numero delle catture. Detto giorno ragazzi, ribadisco, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, fatemi un favore, è gratis e costa semplicemente due secondi del vostro tempo. Iniziamo con il video. Siamo in spiaggia. Non tutti gli spinner sono abbastanza fortunati di avere una foce nelle vicinanze o di abitare vicino a delle scogliere o semplicemente per altri tipi di motivi non possono regarsi in questi hotspot. Cosa hanno davanti le loro case? A tiro di macchina o molto vicino nelle vicinanze hanno chilometri e chilometri di spiaggia. Ma io posso insediare la spicola in spiaggia? Ebbene sì. Ma la posso insediare tutto l'anno? Sni. Ci sono ovviamente dei mesi dove andremo ad avere, dove la frequenza della spicola è maggiore rispetto ad altri, ovviamente. Uno di essi è esattamente questo, la parte invernale, e un po' meno la parte estiva. Il motivo è abbastanza semplice perché con il baccano e il caos che si crea durante l'estate la spicola non riesce ad accostare moltissimo. Accosta le spiagge, ma rimane a distanze non facili da raggiungere, soprattutto per noi che peschiamo a spinning. Iniziamo a spiegare che tipologie di ambienti potremmo trovare in spiaggia. Una delle condizioni che io preferisco per andare ad insediare la spicola in spiaggia è pressoché il mare in scaduta, oppure il mare montante. Tra le due situazioni io preferisco però sempre il mare in scaduta. E c'è un buon motivo perché. Perché quando il mare inizia a montare, quindi tende ad essere ora dopo ora sempre più agitato, il pesce ovviamente si attiva, si avvicina parecchio alle coste per cacciare tutti quei piccoli microorganismi, branchi di cefali che vengono sballottolati da una parte all'altra nei vari strati d'acqua molto vicini alla riva proprio perché il mare sta montando. C'è da dire anche però che man mano che passano le ore le varie correnti aumentano di energia ora dopo ora fino a spingere le nostre amate spigole, in questo caso, fuori la portata dei nostri artificiali. Le spigole si allontaneranno proprio per andare ad evitare le forti correnti che ci sono, che sono presenti a riva quando il mare tende a montare fino a diventare un mare mosso se non di burrasca. Ecco perché preferisco un mare di scaduta perché ora dopo ora la situazione tende a migliorare ma le condizioni ottimali per la spigola rimangono perché ovviamente l'acqua rimane sempre un po' velata i microorganismi sono sempre smossi, stati smossi quindi granchi, cefaletti sono lì, rimangono lì e la spigola ha tutto il tempo e il modo di mangiarsi queste prede nei pressi della riva. Ed eccolo là perché un buono spigolaro preferisce il mare in scaduta perché è un mare pescabile anche se migliora. Le prime ore dopo che il mare ha finito la scaduta e che diventa calmo, ok, è ancora molto buono. Ora, fatto questo piccolo preambolo andiamo a capire nel dettaglio dove lanciare i nostri artificiali. avrete sicuramente sentito parlare tantissime volte di canaloni, correnti di risacca, le schiumate, le secche, eccetera, eccetera. In spiaggia, se non abbiamo la presenza né di una piccola foce né di scoglio dobbiamo praticamente andare a cercare le buche, ok? Perché dobbiamo andare a cercare le buche? È molto semplice perché nelle buche si vanno a depositare materiali come per esempio alghe o detriti vari tipo legni, rami e tutto questo bel materiale naturale che il mare con le varie correnti si muove. Le alghe e i vari tronchi e i vari oggetti naturali che vengono trasportati dalle correnti e che si depositano poi per le varie forze gravitazionali che tendono a scendere e quindi andare nei punti più profondi in questo caso le buche attirano microrganismi come granchi, come piccoli gamberetti ma anche cefaletti e altri pescetti piccolini preve che la spigola ne è ghiotta e di conseguenza dove c'è microrganismo dove c'è cefaletto, muggine, c'è spigola. Ora identifichiamo queste buche con un nome specifico ovvero canalone se andiamo ad analizzare i primi 100 metri, 150 metri di spiaggia noteremo che, no noteremo ma dobbiamo sapere che ci possono essere uno o più canaloni nell'arco dei 150 metri facciamo così, diamo delle misure a caso come facciamo a vedere i canaloni? ovviamente il metodo più facile per ricondividuare un canalone è espresso dall'onda dall'onda che rompe la classica schiumata ovvero dove vedremo l'onda che rompe non arrivo ovviamente ma a metà strada diciamo se vediamo che a metà strada troviamo la schiuma evidentemente lì ci sarà una secca e come vedremo quella secca lì non continuerà la schiumata fino a rima ma a un certo punto si fermerà e l'onda che rompe non ci sarà più questo perché? perché il modo ondoso l'onda aumenta con il diminuire del fondale come il fondale riaumenta l'altezza dell'onda riscende una volta capito questo meccanismo qua saremo in grado di andare a identificare i vari canaloni con il mare mosso o mare in scaduta o il mare montante ma se io avessi una situazione di mare calmo uno degli segnalini primari è quello proprio di andare a riconoscere il diverso colore dell'acqua ovvero avremo un colore più chiaro dove sarà presente una secca e un colore dell'acqua più scuro dove sarà presente un canalone ora grazie a questo grafico che ho creato qui questo è un piccolo schemino di un mare in scaduta dove ai due lati vedremo le due secche ok? avremo le due secche e nella parte superiore ed inferiore avremo degli strati d'acqua più scuri gli strati d'acqua più scuri come ho detto saranno i canaloni mentre gli strati d'acqua più chiari o dove vedremo le schiumate saranno le nostre secche prima di capire dove lanciare la nostra esca cerchiamo di capire perché il canalone è una parte importante per la ricerca della spicola avrete parlato sicuramente con qualche spicolano doc e tutti quanti vi hanno detto la stessa cosa ovvero che la spicola al 90-95% delle volte se non quasi sempre al 100% attaccherà i costi artificiali nei primi metri d'acqua ovvero nella risacca che viene generata quando l'onda impatta proprio la ripa il bagno asciuga quindi una volta l'onda che arriva e torna giù crea dell'acqua torbida della sabbia in sospensione e in quei metri si crea anche un gradino in quei metri là il 90% delle volte avverrà l'attacco è capitato anche a me? andiamo però a vedere nel dettaglio il canale qui di seguito come vedrete ci sarà una piccola illustrazione del fondale che andremo a trovare nei versi della riva dove ovviamente dalla spiaggia dal bagnasciuga noteremo che si creerà questa buca questo canale questo gradino ok? e poi successivamente una secca i canaloni come ben sapete possono essere sia stretti che molto larghi potremmo avere delle secche veramente lontane quindi avere un canalone parecchio grande parecchio ampio oppure potremmo avere dei canaloni molto stretti cioè un paio di metri e la secca subito subito davanti ciò non significa che la spigola non cacci in quel momento in quel piccolo canaletto chiamiamola canaletto ma la spigola come si muove? la spigola ovviamente nel canalone fa avanti e indietro proprio alla ricerca tra il vario materiale in sospensione che potrebbe essere l'alga potrebbe essere la sabbia stessa tutte quelle cose che praticamente limitano la visibilità in acqua che creano del giovamento alla spigola per generare i propri attacchi ed è proprio nel canalone tra la secca e la spiaggia che la spigola passerà la maggior parte del tempo quando è in caccia infatti come potrete vedere dalle immagini le spigole saranno lì che faranno avanti e indietro magari ci sarà quella che in caso che si ciberà sul fondo o potrebbe essere quella che sta dritta guardando la riva a vedere il primo pescetto risucchiato dalla corrente della risacca dell'onda che si è infranta oppure ci sarà quella che guarda verso il mare aperto e sta praticamente sotto questa è la scela secca e lei sta appena sotto pronta a sferrare l'attacco sulla prima preda che dalla secca va verso riva e eccola là che la guanta infame tragica questo è dove potremmo trovare la spigola quando però le spigole non sono nel primo canalone dici ma allora qui non ci stanno le spigole questa spiaggia fa schifo perché non ci sono spigole nooo non è vero le spigole ci sono però dobbiamo tenere in considerazione altri fattori ovviamente la spigola è un pesce non dico opportunista ma abbastanza comodino vuole vuole mangiare senza andare a creare questi super inseguimenti queste super cacciate da pesce serra o da tonno o da le ciamia la spigola si mette là fa il suo agguato e al massimo ti fa quello scatto di un metro due metri per agguantarsi la preda e basta quindi è lì ok che dobbiamo cercarla ma se non è nel primo canalone dove sta? in questi casi qua ovviamente non la prenderemo la prenderemo molto difficilmente da spiaggia perché? perché sarà più lontana dalla costa qual è il fattore determinante per capire se la spigola la troviamo nel primo canale o la troviamo lontana? la corrente di risacca non la corrente di risacca che avremo sul bagnasciuga sul primo gradino ma la corrente di risacca quella vera e propria quella che è pericolosa anche per l'essere umano per noi stessi se riprendiamo l'immagine precedente quella che vi ho illustrato con le due secche e i due canaloni ok? potremmo vedere generalmente che le secche non sono un unico blocco ma saranno a spot ok? una secca è più grande una è più piccola e poi magari nel mezzo della secca non c'è niente questo perché c'è un motivo e il motivo è proprio la corrente di risacca la corrente di risacca è una corrente generata da delle correnti che si combinano che cosa vuol dire? vuol dire che quando il mare si inizia a agitare o è agitato in scaduta ok? ci sono diverse correnti che spingono l'acqua e le onde verso l'iva queste correnti non sono mai dritte ma sono sempre più o meno ma hanno delle forme ok? in questo caso hanno delle forme circolari che possono essere più o meno grandi a seconda delle varie delle zone delle ipologie dell'intensità della morfologia del litorale se prendiamo per esempio il caso specifico dell'immagine che vi ho creato come noterete esattamente ci sono delle queste correnti molto molto spesso vanno in sensi opposti ok? andando unendosi insieme in un punto comune per poi unirsi e generare una forte corrente di risacca che spinge risucchia via tutto quanto tutti i microrganismi i pesci eccetera eccetera fuori fuori dove? nel secondo canalone o nelle acque più profonde ed è proprio lì paracula la spicola che se non sta nel primo canalone nei primi metri d'acqua la troveremo molto distante dalla costa proprio davanti alla fine della corrente di risacca proprio a diciamo a celarsi a nascondersi per sferrare i suoi attacchi a tutti quei microrganismi a quelle prede che confuse sono state risucchiate via dalla corrente di risacca ora una volta capito queste tipologie una volta afferrato questi concetti viene da sé che nella esattamente nella corrente di risacca non ci dobbiamo andare a pescare perché i pesci vengono risucchiati gli esseri umani vengono portati a largo un bravo nuotatore non riesce a nuotare contro queste correnti di risacca figuriamoci una piccola preda o un granchio o un gamberetto quindi fa da sé che noi in quella zona non dobbiamo pescarci dove dobbiamo pescare dobbiamo pescare nel canalone uno dei metodi più comuni è quello di lanciare se ci si arriva sulla secca e poi iniziare a recuperare e fare azione di pesca andando a sondare tutto lo strato del canalone quindi una volta capita diciamo il comportamento della spigola sulle spiagge la nostra azione di pesca sarà una naturale conseguenza giusto per ricapitolare non ho né un fiume che mi sfocia in spiaggia e sulla spiaggia dove io pesco non ho scogliere nelle vicinanze è tutta sabbia quindi dove trovo la spigola la spigola la trovo nelle cosiddette buche o meglio chiamati canaloni ce ne sono più di uno nell'arco sulla spiaggia se ne vengono a fermare tanti di questi canaloni ma quello che a noi interessa maggiormente è il primo canalone quello che si trova praticamente sotto i piedi ecco perché tanti mi dicono vado a pesca in spiaggia in wading e io gli dico ma wading di che devi stare lontano dal bagno asciuga devi stare lontano dall'acqua perché la spigola se c'è caccia esattamente in quei pochi metri in quella poca acqua in quella risacca piena di sabbia sospesa o alga proprio perché lì riesce a nascondersi a celarsi molto bene a tutte le sue prede non la trovo lì e se non la trovo lì allora vuol dire che magari dove abito io le spigole non ce ne sono no le spigole ci sono ma evidentemente in quel preciso momento non sono accostate nel primo canalone probabilmente perché ci sono delle forti correnti di risacca e quindi per loro è più opportuno e più sicuro anche stare in acque più profonde nascondendosi magari sotto il gradino del secondo terzo canalone dove la corrente la corrente principale di risacca porta tutto fuori e quindi porta anche le prede di cui la spigola ne è diotta in questi casi qua veramente pochi artificiali riusciranno a raggiungere una distanza sufficiente da poter entrare nella strike zone ora andremo a vedere direttamente sul campo ovvero al mare con le immagini video e anche dell'azione di pesca quali tipi di artificiale lanciare nel canalone e lanciare in quei casi là ma tutto questo lo vedremo nel prossimo video quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto voglio almeno 200 like se non trovo almeno 200 like non faccio il video dimostrativo sull'azione di pesca e gli artificiali da usare se questo video vi è piaciuto e volete vedere la seconda parte e poi ovviamente le altre parti che verranno sulla spigola in scogliera e la stesso format quindi poi un po' di teoria un po' di tutto quanto e poi la dimostrazione idem con patate in foce e iscrivetevi a sto benedetto canale su dai non vi costa niente ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao